Lo scorso anno i poliziotti entrarono nella sua abitazione ed effettuarono controlli anche in un terreno attiguo all'immobile. Il 44enne Giuseppe San Filippo è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione oltre al pagamento di una multa. La pronuncia è arrivata dal giudice Fabrizio Giannola. L'imputato di recente arrestato nell'ambito dell'inchiesta Ibris e detenuto aveva un quantitativo di cocaina che consegnò subito alle forze dell'ordine. Venne sequestrata anche della marijuana. Nel terreno invece il cane dell'unità cinofila Fiuto e Lashish. Tra alcune cassette di plastica vennero individuati cinque panetti da 100 grammi ciascuno. Secondo le contestazioni le sostanze stupefacenti erano destinate allo spaccio. In aula il PMG Sualda per Spicace ha concluso chiedendo la condanna a quattro anni di reclusione. La difesa sostenuta dal legale Davide Limoncello aveva già in fase di indagini messo in dubbio che il terreno fosse nella disponibilità esclusiva di San Filippo. I poliziotti sentiti hanno spiegato che si accedeva da un cancello. Anche rispetto alla droga scoperta in casa per la difesa non sono emerse certezze sull'eventuale attività di spaccio. Quando i poliziotti entrano nell'abitazione c'erano alcuni familiari del 44enne. Lui invece era nel sottotetto e davanti agli agenti consegnò la cocaina che aveva con sé. Grazie. 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 Grazie.